allora signori i miei consigli per poter trovare lavoro occasioni senza quanti allora se voi pensate che le buone qualità per poter trovare lavoro siano affidabilità come si chiama bella presenza non avete capito un cazzo quelle le dovete dare per scontate cioè cose tipo affidabilità disposizione quelle dovete dare già per scontate perché se non ci avete quello non è da nessuna parte perché dicono che sia la prima impressione quella che conta è quello proprio la cosa che dovete fare cioè quello è scontato i veri e propri consigli sono questi primo dovete dare il massimo mai farvi vedere che siete impreparati e qualora dovesse mai succedere dovete far vedere come riuscite a vincolarvi dai problemi dalle magagne dalle cose poi dovete avere fantasia non è fantasia ma proprio fantasia più c'hai fantasia più fai vedere che ce la fai perché se è fantasia sono un'altra cosa che le fantasia si vuole fare venire dopo come dovete avere fantasia c'è dovete dare dentro fai vedere proprio che c'è avete iniziativa cosa quello è proprio una cosa del genere poi dovete far vedere che tenete la voglia che siete le persone umili che quando mi dicono di starvi al vostro posto sapete stare e poi una cosa importante sorprendere dovete se riuscite a sorprendere la cosa fosse una delle tecniche migliori poi dovete sapere essere gentilico sino poi allora se io dovessi assumere uno no è meglio che assumo uno che mi fa ridere piuttosto che uno che mi fa piangere questo è soprattutto per le donne perché sono poche le donne che si mette a fare battute cose non fate vedere che stai tossendo fate vedere che queste cose qua non vi toccano comunque ricordatevi dovete sorprendere far vedere che sei sempre allegri cose non fate la cosa di che siete disperati perché non regge voi tanto come si chiama poi aspetta non ci arrivo a quello allora poi fatto lì fantasia cosa ho detto dovete sorprendere cose ecco l'arte della cortesia signori se casamai bisogna che so che ruota senza grasso bisogna ungelare un poco ecco ungete ingrassate volete un consiglio piatti tutte le informazioni possibili agli esaminatori sulla loro famiglia che cosa che colore che so gli piace che facciamo con uno che diciamo l'esaminatore c'è una moglie no vedete il compleanno della moglie quant'è quello che vuole non so se avete capito ungete ungete per bene le come si chiama per le ruote questo si chiama arte della cortesia è offritegli il caffè il sottocaffè ma invece un'altra cosa questo è soprattutto per le donne signori molte volte finisce che qualcuno di chiedere la prova orale capitemi bene allora perché perché ma questo vuole fare pure nei maschi perché tutto il mondo del paese signore voglio darvi un consiglio valutate bene la situazione perché la prova orale non è una cosa tanto simpatica vedete se vi conviene oppure non vi conviene io sinceramente direi che non mi conviene a me e forse per questo che sono finito in miseria comunque non so se avete capito comunque voi ho detto ci vuole dovete sorprendere dice che volessi fare dove sorprendere fa vedere che siete allegri perché se no poi c'è curioso di pensare ma che mi sono pigliato a casa sembra lamentare no dovete far vedere che siete allegri raccontate barzellette però senza offendere dovete capire per bene chi ci avete davanti e che cosa vuoi vabbè mi ricordo quando unizzo quando a cercare il lavoro davanti si trova proprio il direttore comunque signori se vi dicono di cambiarvi il colore dei capelli di tagliarveli valutate bene la situazione tanto sono solo capelli che ne so dire parvi che ne so l'orecchino comunque signori fate conto che quando state andando a cercare un lavoro il vostro donatore di lavoro vi sta facendo l'emosina quasi quasi poi vedete pure quando vi paga ecco poi dentro una volta che siete state cose non pensate di entrare di secco e uscire di chiatto cioè se poi riuscite a farvi a intestare villa con cosa e pure tutte le tasse pagate allora non cittano le cose comunque facciamo una bella discussione che è meglio tanti saluti ciao vattene a lì toff l'istituto trovate la fatica ciao 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 ciao